Allora, siamo qui in questa riserva in Giordania che è uno spettacolo, si fa trekking, guardate un po', adesso ovviamente diventerà effetto buio per via del sole. Ragazze salutate, bella lì, è la nostra coordinatrice, ha l'inglese, ha la british, la guida, assalamu alaikum. Ed è uno spettacolo. Foto del gruppo? No. Ok, quindi? Quindi? Avanti? No, è chiaro. Non era la regola del gentil'uomo? No, il gentil'uomo cede sempre il passo. Anche se si cagli. Chiaro. Leo, sei pronto? Adesso dobbiamo scendere, lì c'è il mio giubbotto. Siamo in attesa. Vedi che il primo passo lo fa la coordinatrice, giusto? Diciamo che è meglio scivolare in qua. Vai Elisi, mostra l'orgoglio livornese, in sicurezza. Fai la mossa del cacciucco. Ok, perfetto. Vai Leo, vai Leo, vai Leo. Il romagnolo style. Sicurezza, sicurezza. Noi siamo gli unici alla Comunitiva che siamo arrivati sino in fondo. Questo che fa il chiamo, ti richiamo, è appunto la nostra guida. Io sono qui. C'è una foto? Un video? No. Lì c'è la Barbara. E poi dietro c'è la Miriam con Leo. Dico qualcosa alle persone italiane. È un video. Ah, un video? Sì. Ciao qua? Video. No, com'è che si dice ciao? Ciao in Arabic. Marahawa. 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 Yalla, yalla. Dai, 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 dai. Altro che il Ponte di Brooklyn. Dio, sei pronto? Ah, certo. Corrai ma sei strafigo dopo. No, possiamo mettere su un salone di bellezza. La nostra guida è anche un parrucchiero a questo punto. Si sposta anche i gaveni dall'appunto. Vieni sulla sinistra, sulla sinistra. Voglio una cosa. Ecco. Eccolo lì. Già senti l'energia mistica scorrere nel tuo corpo? Cosa ti senti di dire? Insciallah. E' la nostra crociata. Per il sacro Graal. Prosegue. Quella l'abbiamo accesa? No, ma con l'accendino è facile. Ah, cavolo. Ma di nutre. Io pensavo già se... Eh. Il deodorante con l'accendino, tipo. Di preparazione. Di preparazione. Di preparazione. Viagra. Non ho. Un'accendino. Non ho. Grazie per la visione!